Il centro-destra ha conquistato anche il comune di Cagliari. Buon lavoro. Ma dai, i sindaci, io ho sempre grande rispetto per i sindaci. I sindaci, è una delle poche belle riforme degli ultimi 30 anni, 40 anni, i sindaci vengono eletti direttamente dal popolo. E non è casuale che i sindaci tra di loro vanno anche molto d'accordo indipendentemente dalle appartenenze politiche. Io faccio un ragionamento molto diverso tra il vento politico, il vento europeo e le amministrazioni. Io penso che bisogna augurare buon lavoro a tutti i sindaci. Il sindaco della Lega, come il sindaco autonomo, come posso essere io. Quindi due orientamenti politici molto diversi. E quindi penso che i cittadini di Cagliari hanno scelto quello che secondo loro potrà essere il miglior sindaco per i prossimi anni. Poi i prossimi anni saranno i cagliaritani a valutare se è amministrato bene o male. I sindaci pensano molto ai problemi delle loro comunità, non tanto poi agli orientamenti politici di tipo nazionale. Quindi buon lavoro al sindaco di Cagliari.